Quarto di finale, è importante, andate in semifinale, quindi come pensate di approcciare a questa partita? Aggressività, agonistica e gioco di squadra. Bocca al lupo ragazzi. Grazie. Dobbiamo solo giocare bene, pensate solo alla partita, anche se ci è mancato qualcuno oggi, abbiamo saputo rimpiazzare bene. Bocca al lupo. Grazie. 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 Oggi non si respirava proprio. Abbiamo cercato di giocare come sappiamo e alla fine abbiamo portato la vittoria a casa. A chi vuoi dedicare? I migliori in campo ovviamente dell'ultimo splendido? Sì. Alla mia squadra e fino alla fine. In bocca al lupo ragazzi per il Paseo. A presto.